Ma abbiamo fatto il comando per i social? Eh Sì Siamo in live C'ho il mio caro amico E invece Non funziona Che imbarazzo Forse non l'ha attivato Non lo so Dai su Sto pensando Aspetta un attimo Dovresti agire Vabbè Stavo pensando Facciamo una cosa Facciamo che Non so parlare Facciamo che mi Mi creo il link Per tipo per telegram Almeno no Poi ho pensato Ma non so se funziona Effettivamente Cosa hanno scritto Faggio Ma stai andando in live? Sì Ci siamo Gia Sì Sì Ma sai che mi si è glitchato Non vedevo i personaggi Ah sì Ok Dicivo io So che vuoi Eh vabbè ma lo sai no Come è Twitch Ciao Faggio Ciao Faggio Ma do ieri sera Faggio Ieri sera No ieri L'altro ieri Non mi ricordo Quando abbiamo fatto la live Quante clip Potevano uscire fuori da lì Ma quante Eh vabbè E se te gli abbassi anche voi Ti aggiungi te dopo Faggio Ma quel gioco che hai scaricato Lo fai live Quale Quale dei tanti Che ho scaricato Paper Paper please Sono molto g di morale Oh no Faggio Dai se vieni Se vieni ti tocchiamo Jackbox Eh sì Volendo Perché siamo in due Non ne ho dio Ma il terzo dove è sceso Sei tu quello a fianco a me Sì Sì Mi fanno tanto prendere un infarto Lo sai No quello è solo un gioco da live La Jackbox Tutto 3 Eh li è Mi è scattato fortissimo Prendi Prendi Prendo poi Cos'hai lasciato Cos'hai lasciato Marcello che non ho fatto caso Non lo so Ma Ehm Prendi prendi Non mi hai lasciato niente In realtà Effettivamente Guarda l'altra parte Ok Ma ho la mia sensazione Ma oggi si vede peggio O sbaglio Di cosa? No Il gioco Si vede veramente male Ce lo vedo sgranato E non so Ti serve un trattore shot? No Mi sa che si vuole incontrare A school town Oh dai Allora Facciamo una cosa Una cosa molto incredibile Adesso io metto qua Mi croucho E faccio un attimo una cosa Tipo intanto chiudere steam Mi sembra una cosa utile Un attimo eh Che ho tabbato Ho tabbato È Marcello Niente Non lo so Non lo trovo Hai dabbato? Ho dabbato Oddio 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 Ma io metto di qua Mi sa che lui stai fightato Lo sai? Passiamo dal bunker Passiamo dal bunker dai Lui dove è stendendo Ma che ne so È dall'altra Ah no Questa non è bunker Sono scemo A proposito di qua Ho la ulti Betty La getto Prima di Di andarcene Almeno Ok Sto contando un po' dentro Che c'è? Caricatore pesante Niente di fico Anzi guarda Lo piglio il caricatore pesante Nel caso trovo un'arma pesante E niente Faggio Se sei ancora in live Io direi che si Si può portare In realtà si può giocare Anche fra di noi Tipo drawful Ma tu intendi Quello lì Si ma tutta la jackbox Non c'è neanche troppo bisogno Di 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 averlo tutti quanti Scusa Ok Ok in quanto Ammunizioni Stop Siamo da sopra Si è uno stream E tutti giocano Col cellulare Scusa Scusa C'è gente Alla Scusa Beh contando che io Ho soltanto Un mid in uno per E che non li vedo E tra l'altro Non ho cecchini Quindi Andiamocene Andiamo verso il tizio Io l'unico cecchino Che avevo Che Chiamano cecchino Che è lo scoutino L'ho droppato Per la wingman Non mi chiedere perché Armi alla mano Che ho Ho visto che qui Stanno Ma magari c'è anche Il nostro amico Si sta là però Che culo Ho trovato il turbo Compressore Buono Ho sentito Curarsi Si Ho sentito Ho sentito Quelle municione pesante Mico Yo Se è andato Se è andato Via E tu che stavi Correndo Chi è troppo D'ho sentito Su Su Questa è minuta un attimo Amaci Ma quell'altro L'abbiamo fatto Fuori Eh no E' andato a terra Mentre l'ha tirato su Dove stiamo andando Dove stiamo andando Dove stiamo andando E' niente E' sopra E' autato Cominciato a morire Marci Non è liquido Adesso Ah cazzo Sopo morire Ah non ho kit medici Marci Ti sto andando Ok Ok Uno a terra Sei a terra? No Uno a terra Che f***a Eh Marci Non so come viene A curarti Sono senza vita Ah cazzo Mi ho visto Comunque ho recuperato Il banner Di Quell'altro Eh Non ce la fai a venire Non ce la fai a venire Eh ci provo Più Piero 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 Mi sto Sopra Eh non immaginavo Mai sono senza Vida Senza nulla Almeno Non lo so C'è In game Neanche io Non c'ho nulla Sai Andiamo là sotto Che non dovrebbero Viverci Magari non ce l'ho visto Magari non ce l'hanno visto Magari non ce l'hanno visto Andiamo un po' Un robottino Andiamo a questo qua Ce l'hai uno scudino piccolo Così non uso il d'accento No Ah no sì Forse sì Ok pronto a correre Sì Via Non la sotto Ignorali Hai la Tuo ulti Sì Che se serve La La Devi fare A quanto pare Non la devi fare Sì Armi la mano Occhio eh Eh lo so Che tra l'altro io sono con una Con una Con una Wingman senza Milino senza niente E un'arma del cazzo So close So close Si è fatto un casino Oh Alternator Here I have come to save the day Maybe I could use that Ring's around the corner And we've got 30 Oh look Someone wandered Into our safe space Forget I said any Light ammo here What do you need Uh what do you need Man Eh no Heavy ammo Sì Ho preso tutto Questo cadavere Immagino sia Una E vedi Volizioni energetiche Indica Ma Ok Ma è Quanzas cosa Imparazzante Ci sono 6 squadre E noi siamo usciti Da quell'inferno Non so come Già Tra parentesi Come and get your birthday present Sono solo 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 pistoli In pratica Sono solo pistoli Ormai è un meno Ormai è un meno Tornare in Mozambique Scusami No Tornare in Mozambique Scusami No Choco Choco Non mi sa Ma non mi sa Ma non mi sa Ma che imbarazza Cosa è? No Scusami De l'ho sputtato Ce l'ho visto Cazzo 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 Era ultimo Era ultimo Ultimo Era ultimo Qua Letai Direto Vabbè Vabbè Mi dispiace È andata un po' a merda Così Ho fatto 600 danni e non ho ammazzato nessuno Sembra abbastanza costica come cosa? Di nuovo dai Ma nel collo Ma nel pollo? Il collo Il collo Comunque abbiamo fatto Io non ho la più valida idea Come ho fatto a sopravvivere la In quel casino Quella situazione Ti ho fatto i chilometri a piedi Strisciando È stato imbarazzante È stato molto imbarazzante Che schifo Che schifo di partita Coltown? Ti va? Che fai Mi se ne frega Ho sentito Ho sentito Prima Perciò Oh oh Andiamo in fondo Oh oh Tutti quanti da sopra sono andati Tutta la navicella sono andati Tutti Tutta la navicella sono andati Tutti È la fiera del Delle cose energetiche Io ho bisogno assolutamente di 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 Un scudo Che hai incontrato qualcuno Qui 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 Mi ha fatto il gaso La mia intelligenza non deve essere underestimata Purtroppo io con quel mirino standard del coso non riesco a mirare Che è lo stesso della wingman è uguale non riesco a farlo funzionare Ah Faggio se ci sei ancora Che tu sappia ieri Drake ha messo il comando social Cioè funziona Perchè prima Barcelona ci ha provato a farlo andare ma non va Senti che io sappia Drake comunque l'ha fatto in mia presenza Il mondo social poi Vabbè ma non andava Eh lo so Non saprei Ma cosa si chiama golf cart one? No Faggio non va Non va Che imparate XDDDD Mozambique Dai Gemini Mena che stiamo trovando le persone 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 Siamo noi a fare schifo in realtà No così adesso se mi guardi la live Capirei perchè faccio così cacare Questo è il tuo champion Mozambique E' con due Q sei sicuro? C'è ancora una? No è una Q E' senza line No Non so perchè fai cacare Perchè esiste Perchè sono nato Perchè Dove sta scendendo? Che ansia Abbiamo già perso Andiamo la Beh di Staccati Dove fai? Stanno andando anche lui Andare lì è un suicidio Tutta la gente che c'è 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 Infatti Che hai trovato di bello? Robottino Nulla di che Finchè ho davvero la tira del fucile a pompa qua oh Ma qua ci sei già passato tu? No mi sa che c'è qualcuno Che ne sono? No Dove sono o che? Che ora sono? Vedete Dove sono? Oh Mozambique C***o Di merda E allora l'ho droppato io C***o pensavo fossero munizioni aggere Adesso non mi sto male Vabbè io dico che stare qui è una cazzata Già Andiamo là Oh no che sbaglio Sperando che non ci vedano Pensavo di non riuscire a prenderlo Mi sono c***o in mano Ho detto vai adesso faccio un salto nella morte Sì Sì Sono già luttato qua Mh Infatti stanno sparando Stanno sparando Se non ti sbagliate la mia vista Sembra di sbagliare la mia vista Sembra di sbagliare la mia vista Ehm Sì dai Sì dai Prendo io quella cosa del check-in C'era io qualcosa di meglio No no Prendilo tu Prendilo tu Ok Anche perché un 4 ho preso lo scout Mi viene voglia di morire E niente sia imbarazzante Ok ho capito dove stanno Eh sono in fondo mi sa Se non dall'altra parte Ma scusami Scusami Che cosa è scritto faggio 15 e 26 Sono le 15 e 26 Ah ok Chi ha risposto Oh ne ho bisogno tantissimo Non vuoi neanche l'elmetto L'elmetto vuoi? No no Ha sparato o sbaglio? No no Vieni Mi sa che Tra un po' morirà Arriva 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 Ma perché? Dove andare così da solo Grande! È già morto Eh luttate in velocità Non vuolver No Non è niente E' già morto Non vuol dire A E' Adesso Gemini capisce perché ci mette tre ore a luttare Perché Sento un po' Anchiuso Che con l'ansia Che c'era qui che non mi ricordo Io sono full di ora Stai zitto Gemini che stiamo facendo i culi Ok via Anche se quel kit medico Ma così Marcello Che tanto ce ne dobbiamo andare C'era un drop di mappa Aspetta c'era uno sniper là dentro Uno scout Non mi sembra il caso Guarda che noi ce ne stiamo andando Se arrivo Tanto sono Fastest fuckboy In alto al centro No Centro dall'altro lato Ma l'avete preso quel mirino d'oro No Porco Porco Shotgun bolt here Level 3 What do you think is over here Eeeh Sei ancora chiusa Questo perché ti vogliono far credere che non ci sia nessuno Ma in realtà l'ha aperto Ma in realtà l'ha aperto Professora E' lo schifo comunque Eh dopo la sposta dai Io la metterei al centro La metterei più che altra Sono subito Sono subito Aspetta Non direi che cos'è Round 2 Beginning green countdown Stanno sparando da dove siamo venuti Davvero? Sì Ma scusami Ma sono l'unico con l'armatura viola Orca miseria Oh Ah ma il jump pad viene visualizzato come trappola Mi sa di sì Al centro dello schermo Sì dopo dopo la sposto Magari la rimpicciolisco anche Campione eliminato Che non ci avevo pensato che in alto a destra c'è la squadra E le kill Ne ho fatta una comunque GG Ma così? Così come? Così come? Ma quello ha l'armatura bianca Eh sì Che sbaglio Non mi sembra che sia nessuno Come l'ho detto? Qui stanno? Ah ecco lì Mi senti da Mi senti da Usciamo? Non li vedo aspetta Ne ho visto uno Finora Due Ah non so Sono due squadre Io direi di aspettare Aspettiamo Sono io Sì ma che fosse qua sopra Usciamo Sono tre squadre eh Quante? Sono tre squadre Tre? Sì Hanno finito di Flottare Eh lo sono usato Quell'altro Sai che gli ha sparato eh? Ti hanno sparato? No gli hanno sparato Donna Sono te Dove è andato? Fa' il culo Non è rimbalzata male Sì Io ne ho fatto tanto male a entrare Sono passato Dove è andato? Ma dai A parte che gli ho rotto lo scudo Non so quante volte Si è riuscito a curare sempre Quindi secondo me aveva Ma l'hai visto il jump? Vabbè adesso vado sopra No? Abbastanza fast Così li pusho da sopra E' andato sotto la scala E io ho perso tempo Perché mi è andato il jump head E' bisogno che c'è quei piccoli scalini Ehm Quei piccoli scalini Per salire sopra Che sono trasparenti Marci Si ma metti pronto Ehm Aspetta un attimo devo spostare la webcam Intanto vado in bari Non al centro schermo Pirla E dove scusami? In basso a sinistra Al centro C'è la vita Capito? Ma c'è la vita Non dove c'è la vita Al centro dello schermo Eh Ma a sinistra Basso sinistra Ah ti intendi tipo qua? Aspetta che vedo in live Ti dico Si Ma posso? Che schifo La lasci piccolina com'è E stai perfetto E niente In quel tipo di gioco lì Non c'è mai un cazzo Ti conviene tenerla sempre lì? Era con il nome Era con lo shift Aspetta che Un attimo La fanculo Ce la fai? No Bravo Spostare la webcam su OBS Che fastidio Blocca Così poi mi pare sbaglio Non lo sposti più Ah Gemini Ti unisci? Si si Bene Advio il gioco Il momento importante Mi parerà mia mamma Vabbè Cos'è normale No Oggi sta stanza È in buona stanza Delle Delle lavoratrici No No Faggio Ok Cosa no Faggio Ha fatto una storia E mi ha taggato Mi ha fatto un attimo Di infarto Stanza Dai gioco Lì Marcella Hai sbagliato Ad entrare Da quella porta Immaginavo Perché stavano tutti lì Ti hanno aspettato Ah ecco Dovevo aspettare anche il nostro amico Più che altro Che era in culo Anche No perché a parte Vi ha spottato lui Ultando con Un blow down Che fa un casino Della madonna No 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 Quando senti Il suo Vi ha detto L'hanno sparato Mi lascia Il life line Marce Va bene Adesso Lo risalò Ora io prendo No Prendo rate No Così Eh Ti è aperto Cancello Ma Madonna Che terrone Ma è arrivata pure mia zia Non tu dici Io c'ho mia zia Io ho le cuffie Mia mamma e mio padre Quando urla Non li sento Mia zia Quando parla E il suo parlare Tipo Urlare Da Da chilometri La sento Con tutte le cuffie In realtà Il gemini Non è il terrone Lui Lui risponde A modo Spondi a tono No A modo Spondi a tono Spondi a tono Ah E mi lascio Bugaloo Questa squadra Che non ti è mai vista Spondi a tono Spondi a tono Spondi a tono Spondi a tono Un'uccisione Un'uccisione complete Ahahahah Hai visto quante vittorie Ho fatto con bugaloo Cioè Hai visto quante kill E quante vittorie E quante vittorie E quante danni Con coso Hai visto quante kill Con lifeline Andiamo safe Andiamo a cazzo duro Come cazzo ci pare Ma è cazzo di cane Tanto ho i depilare di cazzo Sotto in bocca Dove venire qualche consiglio per wait? Abuse della Q Abuse per scappare Per pushare Per fluncare Io vado centrale Tu vai a destra Ah che bello Un stabilizzatore di canna Me lo metto sull'uccello Ma Però Io c'ho quello blu Uh Zeno blu E Zeno viola E basta Mi sa che mi sta un po' Calando di frame Adesso Niente Marcello Sì Marcello Cioè mi hai preso occhio Comunque lo posso dire Ragazzi ma l'armatura blu Nessuno la vuole Io Dove Ce l'ho puntata Qui Hai trovato uno zainetto Io sono full blu Io vorrei un'arma principale Spera da lontano Che il skipper Mi sa tanto di schifo Eh Io vorrei un'arma A prescindere Perché c'è il skipper E il flatline Andiamo a versare Andiamo a ver Qua sotto c'è Un cosi Gio cecchino Gio cecchino Gio cecchino Gio cecchino Questa serva Mentre Il cazzo Trovino Faccio questo Questo porco Cosa Me lo fa Appinnare Il gioco Mi serve Per l'arma Leggera Che non ho Eh vabbè Ma prende Ma ci Ti propongo Uno scambio Quello lì Per questo Aspetta Aspetta Fermo Dammi pure l'altro Eh Grazie Grazie Intanto non ho armi Marcello Quindi Sto cominciando A pensare A difendere La Mozambica Se avete preso L'estensore leggero Me lo passate Eh Lui Si pagiato Ah ok ok Venga Dai che si spara Con un skipper Da un chilometro Tutto tuo Tutto tuo Non l'arma Dove mettercela Adesso si Mi sa che Il flatline Che ha mollato Gemini Eh È quello Nessuno l'ha visto Che cosa Cosa È il metto d'oro E prendilo Come d'oro Sì Davvero Cosa faceva Nel metto d'oro Non mi ricordo Eh Riduce il cooldown Delle abilità Dove risterlo In teoria Servirebbe a me Ma Forse Anche lui Se riesce a usare Bene le sue abilità Mi permette di scappare Pusciare Passi C'è una carabina Da me Chi la vuole? Io Ma ce n'è un'altra Hai visto? No Mi tengo il flatline In realtà Anche se credo che sia un'arma del cazzo Il flatline Però È un po' strana come arma Eh la wingman Con il fatto che spesso il server non conta i danni Mi dà il cazzo come arma Soprattutto Sai che sarebbe divertente ragazzi Avere un merino Mi divertirebbe assai Te ne posso dare uno io Sì Uno per Io andrei verso scultare uno Anche perché io non riesco a sparare Con il Qualcuno ha un'armi leggere? Vuole munizioni? Sì Io ho le armi leggere Anche Marcello Però dalla Marcello Io ho 160 volti Quindi Fami scommettere Marcello Ti si è rubato il merino Uno per Sì Grazie Hanno restato a school Io l'ho lasciato a lui Che non ce ne aveva proprio Eh dai tieni 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 Cosa cazzo è? No sai perché non ce l'ho A school l'hanno restato Quindi dovremmo trovare Un team che è impreparato Eh qual era quel glitch del portale? Allora Attiva il portale Mentre stai scavalcando qualcosa Aprimi la Q Ok Mentre stai in animazione Vieni qua Cavalca da qui Vai attiva il portale Prima devi attivare il portale Poi scavalcare C'è una cazza Vabbè Mettilo in casa il portale Marcello Ok Come faccio a metterlo? Z? Eh il tasto per Fatto Fatto Anche oggi qua c'è la team Uno l'hanno restato Uno No non hanno restato qui Ah Ma si è attivato Ok Non ho riuscito a fare il Ok Questa Non ho noti perché Se non si è attivato Non lo prende Non si è attivato L'ha messo Per sbaglio da quella porta E' finita Ma no Non si è attivato Se ne sono andate Stanno sopra Ho un Pathfinder Sì Qui da me Probabilmente Sì Oh cazzo Scusami Marci Te lascio solo No Eh vabbè Non ho detto che là No 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 Non uscire Non uscire Arrivano Arrivano Lascia 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 308 danni che palle poi a me si era attivato la voce nella testa di Brett che dice era la prima volta che vabbè ma basta che guardi lo schermo se ti sta nominando ti esce prima il tasto H per avvisare gli allenati ma che minchia è qualcosa comunque col Flatt l'hai iniziato più alla mano perché non è così male in realtà cioè non è un'arma di merda da lontano è una merda da lontano è meglio lo Spitfire vabbè nel senso non è un'arma di merda che appena la vedo anche se non ho armi dico no che schifo prendo la Mozambica se non hai armi se appena scese c'è gente prendi quello prendi quello che ti fa le peggio kill perché entri in una stanza premi a corto raggio in school town esplodono tutti chissà se l'aggiusteranno mai questo glitch chissà se l'aggiusteranno mai questo giorno il problema è quello e niente verremo spottati fast perché dovete sapere che vedi ha un problema chiamato scudo e storm in quel momento non mi dovevi restare dovevi uscire dalla casa senti ne ho buttato uno giù fortissimo io ho stato trattato una rosa di così nella bocca ho capito però dovevi uscire dalla stanza curati avrebbero ucciso me nel mentre perché io li bloccavo la porta e tu li prendevi alle spalle capito? ma poi ero triste se morivi via jamie e beh ci restavi lì ci rispondo lì no mi dispiace faccio la faccia ascolto a modo non a scuola stai andando? si io entro lì io entro in fondo io entro sul tetto sai che c'è gente? no? si c'è gente ah che bello è stato solo uno scudo e non me l'ha neanche preso beh se devo andare a fare il cazzo non mi piglio la roba non lo so eh se hai bisogno di un'arma te ne posso dare una a betì io ho due pistole aiuto c'è qualcuno qui dove sono io ma non so dove posso scegliere io quando disattivare le abilità? no stanno lì e lì stanno ah è vero sono obeso arrivo ti faccio in giro ci sono con una star dove sta? sta qua sta qua sta qua da me mi stanno facendo la ulti mi stanno facendo la ulti mi stanno facendo la ulti mi scarico fortuna e ti arrivi sono morto grazie che stai zitto pedi cioè se non sto venendo da te perché se c'è gente vicino a me tre persone mi arrivano da dietro siamo morti che cazzo ah gg se parli se non sto venendo da te vuol dire che abbiamo sentito altri passi perché avevamo gente davanti comunque c'è niente da fare io da internet non lo so usare non lo so poco usare che stavo io e Marcello tu hai detto venita da me Marcello ho preso e stavo venendo già da te ma perché Marcello mi voleva no veramente io stavo con te eh ma tu sei andato quando lui hai detto venita da me tu hai preso e hai girato e te ne sei andato io mi sono trovato pathfinder, bright e lifeline in faccia perché io ho fatto un po' saremmo morti lo stesso per carità eh Mozambique io non so come ho fatto ho ucciso uno con una stella in una casa buttata a cazzo ovviamente poi tutti i giochi è lento come la merda nel muoversi che non ho e non riesci a stare al pazzo degli altri personaggi ah ti lascio vai Marcello ah che garazzo è impanicato tantissimo macello sì perché non stavo neanche con la mano sotto no non sapevo perché stavo fatto aspettato gli ultimi secondi ho abiticato i due coltellini mi hai fatto ricordare che devo stare che ha fatto tante kill e tanti danni inate quelle di fiamma non separiamoci troppo si sono divisi malissimo ma dai la wingman l'ho preso pure io ah ma dai disarmato dai prendilo tu la nostra sinistra stanno ragazzi visti visti quando dovete aprire il foco di me ah 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 pot finder sta scappando cazzo granato da dove vi sparano ci sparono da qualche lato io lo sto buscendo comunque eh sì noi pure però io non ho munizio auto ci sono gente vicino nomi qua dietro ris highest arrivi arrivi Non so dove è Non so perché non li hai viste Non ho armatura manco Questi ci fai, tanno pesantemente anche Aspetta, io mi droppo la carabina qui Almeno ho cinque colpi Non siamo passati in sta casa Uno shield, uno shield, uno shield, uno shield Hai le cure, Marci? Sì Ok, sali qua sotto Grazie Controllate le porte e le venette Non caricare con quella Non mirare Se ne so un'altra più fretta Sì, anche a me Venite con me Andiamo nell'altra casa frontale Quando siete vicino a me, 3, 2, 1, vai Ma è aperta a porta Porta aperta Non so parlare Vabbè, avevo capito Non c'è nessuno Non rivolto l'aria Sì, non c'è anche Secondo me, comunque, sono tornati a prendere il loro Eh, sì, ma ignorateli ora Stiamo messi male per fai dati Ma io c'ho Eh, lì Sei Posso dire che speravo di non vederle Oh, eh, gemini Sono sempre là Me ne ho visto Marci non è uscito dalla porta, cioè, me ne ho visto Era in quella direzione lì Raga, aspetta, venite da dietro Un po' anche l'ultimo È aperto? No, un po' l'attiva Devo aspettare 5 secondi 5 secondi Non bisogna provare ad entrare Questa, questa, questa Non c'è nessuno qui Andano lì, eh Cazzo, io ho un po' di shield vuoto Avere shieldini No No, ho un acceleratore ultimo Però se volete Che cazzo ne faccio Eh, stanno ancora lì i marci? Eh, no, non lo so Io non li ho visti proprio Andiamo in questa casa Era nella casa proprio questa Trovato un po' di shield No, ok, la c'è presa Era in questa casa, erano Non so se sono andato via Ho bisogno di Colpi leggere, colpi leggere Stavo per dirti Ce la dividiamo Eh, non te ne posso dare un po' Se ti diciamo Eh, mi sa che ci sono scattati Sì, sicuramente hanno recuperato I loro amici Social? Chi è che ha fatto il comando social dei nostri? Ho trovato niente? No Ma scusami, scendi 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 Scusi io Oh, è in blu Non mi uscire Vabbè, aspettate un attimo Il luogo è il primo possibile Vai, entrati Troppo non era sufficiente Scavalcare Eh, vabbè Eh, vabbè Eh, vabbè Eh, vabbè Ciao, Drake Ciao, Draco Guardate, devi sapere che non abbiamo nessuno di noi munizioni No, io ce le ho Ne ho 24, però Eh, cavolo Un sacco di munizioni Ok Sempre meglio No, non ho cura Non ho cura No, cazzo Mi dimentico Non posso aprire la porta No, me lo lasci Eh, vabbè Sto pensando che siamo No, ti ho basato Troppo tranquilli Per essere fuori dalla safe Eh, se qualcuno di voi ha un kit medico Non lo farebbe Eh, il minimo 4 appena posto Te li do No, è cadato il tuo culo Quindi se mi lo dici un pochino prima Evito di perderli Ok, stanno qui Spera Sparare Palissimo Oh, è vero Alessand Qui siamo buoni Attibati Spera Adesso non è luttato Andate non sempre Fatino Lo è saliamo sulla roccia, saliamo torna lasciamo perdere il fatto che il mio equipaggiamento è un po' dell'imbrazzo finito aspetta eh vai cacolo hai trovato un non lo spostare, aspetti che hai sei ciccione tu ho la ulti, la caco la caco poco fuori dalla si, guarda tipo lì o lì non me la facca casa eh no c'è un muro sopra abbiamo due minuti il fatto possibile niente non ce la faccia ce la fai? sto cercando un po' posso vedere ma marcello giù nell'acqua faile in quella in questa cazzo di acqua faile in questa cazzo di acqua è calmissima ti fa faile in questa cazzo di acqua faile in questa cazzo di acqua faile in questa cazzo di acqua puntati possibilmente non dove sta il coso logicamente c'è un angolo dove pararci lui ha messo precisamente riparito al muro che se mi sposto di un metro voglio ma donna mia e c'è sempre da dire tu A te ti sembra Iiiiiiii Andiamo dai Se non caga il cazzo non sono io Posso ridere del fatto che non ho niente E soprattutto che fine ha fatto la chat? Che mi sono distrutto un attimo Che è stata cancellata Si è stata cancellata Eh sono svuotato Jamie come mai i comandi non vanno su streamlabs? Ma chi è sta? Eh niente sono stupido Che i comandi non vanno su streamlabs? La zona è luttatissima e sento spari abbastanza vicini Mio Poi andiamo di la eh Ho proprio avuto anzi Quelli con il putto esclamativo Eh lei avrei sbagliato ad aspettarli probabilmente Stasera ci do un'occhiata se mi dai i permessi No non te lo diamo il permesso A sinistra c'è la gente eh A sinistra c'è la gente eh A sinistra c'è la gente eh A sinistra sculstan Sono pronto a non avere niente Non andiamo Segui ti segui ti segui Eh volevo prenderli alle spalle Però non ci conviene più Arriva la safe Eh volevo arrivarli alle spalle No Vai dietro No cazzo mi rompe e ci do Eh? Vanno lì c'era eh Granata Granata Ma porca puttana Lo tempo non prendete il portale Vabbè No cazzo dietro Vabbè diciamo che ci sono tutti l'imbarazzo Nel portale Visto Eh me la sento un attimo che devo fare una cosa io Fai le agoni con il canale e fai prima Anzi se ci riesci ora è anche meglio Ah 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 Che imbarazzo 223 danni quando li ho fatti con le emulsioni che avevo? Fate l'uptime Che dolore della schiena madonna Oh che dolore della schiena madonna Non siamo Che miele sbaglio Uptame Un'ora e 3 minuti Mmm Ah Drake Drake ma ti sei al lavoro o sei su TS? No stiamo Non credo stia sul TS Matti dovrebbe essere a casa in teoria ma non credo stia oh aspetta un attimo perchè mi andrebbe anche di cambiare gioco a me per me per me si mi andrebbe proprio di cambiare gioco guarda Gibraltar quanto è triste che lavoraccio che fatica la vita e quindi io vorrei cambiare gioco però se c'è anche Drake decido che gioco se non c'è boh non so che scegliere boh però si dovrebbe switchare perchè io avrei voglia di fare un po' di Anthem non ci sono niente Anthem Marcietta che ti va di fare? stanno andando a compleanno tanti auguri non so perchè l'ho detto Marci che c'è? dai su che gioco vuoi fare? indovina lo so Rainbow Six che c'era in basso a sinistra ma ma Rainbow Six andava bene allora switch un attimo ma sempre in live? si default mi sposto il mio faccione ah devo aprire play con calma io credo che dovremmo farci anche una un'anteprima per lo switch a sto punto mi sembra una buona idea riesce a fare schermo nero comunque ma si fa un paio di partite poi stacchiamo perchè eh eh vedi è per questo che io dicevo che dovremmo trovarci qualcosa con una storia e niente Mozambique ora la trasformo in boh in boh boh non so allora lasciamola così chi se ne frega tanto in lord tachanka no 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 è morta come member ok ok andiamo se non ha preso ok ti invito cosa che mi consigli quindi tu il compensator o il pleshire dipende per cosa per l'arma di di tachanka perchè l'arma di tachanka perchè ti hai giocato ieri e hai fatto panico e paura e quindi adesso no vabbè però se mi ridi per dire io sul mio c'ho il compensatore lo accetto perchè il compensatore ripicciolisce la rosa casuale e basta e il flash shider e il flash shider il flash shider è quello che diminuisce ancora di più la luce cioè la luce la fiammata e non so quale sono le cose dovevo fare come gigino 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 cosa devo fare tre round come gigino allora e va bene io devo fare schifo non so perché mi usa sonno fbi swat va bene la che palle sta mappa mappa work it down and the camera is that twitch synx quindi twitch synx switch switch twitch synx No, qui non c'era il buchino per il drone, è vero Stanno sopra credo, ho scopo Tu mi hai visto esplodere Vuoi dire che quel dock tempera il... Ah ma è bomba A quanto pare C'era anche un... Ah Che è successo? Oh, fa gioia online su... Hai visto? Questo che significa solo una cosa? Su Rainbow Six è entrato, scusami, scusami Una sfoglia alla fine... Aspetti, sono dietro di interior Da dove c'è Frost? Non lo so, penso di no Aspetta che mando un drone Nella stanza a destra non c'è nessuno No, non c'è nessuno Dobbiamo andare sopra, giusto? Sì, sì Stanno guardando la telecamera qua Distruggila se vuoi Detto che c'è lecce Detto che c'è lecce Detto che c'è lecce Che c'è la sua Ah Vabbè Mi hanno fatto il panino Poteva far poco Ma, quello si chiama il Duce Che cosa? Eh, guarda, uno che è entrato in partita adesso Ah, che cos'è Oh, che cos'è Dio Oh, no Falsacaca No Non è voluto non devo fare né a pulse né a caster visto che comunque devo fare la sfida vado a farlo anch'io quella mi sa che la squadra avversaria è forte se non è forte è fastidiosa oh devo switchare devo invertire le tasti 10 secondi 5 secondi keep an eye on door down to 5 secondi EDD pride on location secure norway trap clear of blast zone calibrating air compression ok guarda la ok ok ma che imbarazzo devi spiegare perchè vedo 3.000 video di rainbow six la gente che fa che spara in ads no in hipfire sbaglio sempre e one shot in testa io con un merino così piccolo così non prendo perchè perchè gioco perchè che ti ho fatto di male siete smesso la like? no perchè ah avete cambiato il gioco? si anche allora mi posso spostare ciao gli amici mi si si vede da ah ho provato a fare un controllo della kakess ripara si chiama ripara si chiama ripara un po' stanco un po' stanco un po' stanco come mai stai andando di francesi? perchè la missione mi sento con i francesi ahah la missione francese hanno rinviato la francia ah mi dimentico che il drone di twitch non salta quindi io provo a saltare ma non salta probabilmente sta andando probabilmente sta andando ah mi ho dimenticato è vero cosa ti hai dimenticato? eh che di là non si entro cav oh no camera oh 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 è un po' apertura occhi di qua c'è uno qui dentro vedete sta ancora qua oh non sparaare Vabbè io non so cosa fare Una di quelle partite La scuola è la scuola Cosa? Down to one friendly Ah Ma sai che non abbiamo il defuser, no? Sì, sì Quanto stava fermo Sono cacato nelle mutande Mi sa che è finita, no? Sì, è finita questa Comunque sta cavera è stata un po' di assurdo Devo quittare Sì, Marcello, chiudite la live? Mi devo andare via Sì, chiudi, chiudi Sì, chiudite? Sì, chiudite? Sì, chiudite? Sì, chiudite? Sì, chiudite? Grazie a tutti. Grazie a tutti.